stamattina ho fatto grande scandalo proprio scandalo ti ti spiego ieri sono stato con questa uomo tutte le giornate poi non abbiamo fatto sporchezza niente solo riposiamo e poi mattina lui dice devo andare presto lavoro niente sporchezza mi sono arrabbiata veramente arrabbiata sono stato come dracone ho fatto scandalo e lui è stato scioccato lui dice solo una volta non è dato mio cetro tu fai così scandalo e lui veramente è stato stranissimo poi lui ha detto taghera tu puoi dormire a casa mia quando vuoi adesso io devo andare e lui è andato sei mattina mi sono svegliata alle 12 pomeriggio lui mi ha ordinato cappuccine caffè spremuto cornetta dolce poi anche frutta e io cosa ho fatto mangiato tutto questo con aperta bocca e detto grazie stranissima io ho fatto scandalo a lui mi ha mandato un cibo poi lui ha fiduciato sua casa a me dormire adesso io poi abbiamo fatto mattina solo 10 minuti sporchezza quindi adesso io devo uscire andare a palestra quindi metto un poco rossa qua in mia faccia tipo sono timida al giorno sono timida e innocente notte sono gattivosa quindi tipo sono timida un poco timida giorno dobbiamo essere bravi notte solo possiamo non lo so secondo te tu non lo so però io si si vede si mangiato adesso vado a palestra non lo so